Buon Gododay, eccoci qua nel secondo episodio di Poppy Playtime, ovviamente sto registrando tutti insieme, sono bevuto un caffettino incredibile, eravamo rimasti a quella porta sus che si apriva, io ho intravisto la manina di Huggy Wuggy, allora rispetto al video di prima ho aumentato un po' l'audio e soprattutto ho aumentato la luminosità che io da faggiano non avevo visto, perché se tu vai su opzioni e scorri magicamente qui, io prima c'era luminosità che era tipo a zero, spero mi abbia salvato, ok, guarda che infame lui, carica la partita, vuoi caricare il tuo ultimo salvataggio? Sì, vediamo un po', ragazzi mi sta piacendo, mi piace il mood in cui ti mette, ok spero di riuscire a registrare almeno tre episodi oggi, allora, ci siamo, beh minchia rispetto a prima, luminosità al massimo, lo scorso episodio vi ricorderete che per fare questo collegamento di fili ci ho messo mezz'ora, a parte la scena del trenino, vabbè lasciamo a vedere, perché dovevo collegare queste due cose, con il filo qui della manina, però lo facevo al buio, quindi non vedevo niente, ed è stato divertente, insomma ci ho messo più tempo del previsto, comunque, allora abbiamo niente, per adesso niente, ok, direi che possiamo andare avanti, prendi la scopa, ok, vieni Aghi, vieni, posso teppare la scopa? Ok, no dai, voglio picchiare Aghi, vabbè niente, non volevo picchiare Aghi Wagi con la scopa, vabbè fatti, mi sa che è l'unica scopa, ah, vedi quante cose si mettono, non l'avevate visto? Ho preso un pezzo di ca... Ah, vabbè, giocattoli smoltanti, comunque dai, andiamo avanti, andiamo avanti, eccoci qua, oh, beh, 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 rispetto all'altra volta, cavolo, leggo cose, ecco, che cavolo l'aveva letto l'altra volta, lì, testing, innovation, ok, Ok, allora, questo l'avevamo letto tutto l'altra volta, al buio, beh, lo rimetto qui se volete rileggerlo, ma l'abbiamo letto l'altra volta, ok, qui c'è, vedi? Ah, caffeteria, vedi, infatti mi sono preso un caffè, ve lo sapevo che lo prendevo qui, innovation, mazza, c'è tutto, teatro, ok, qui ci vuole la manina rossa, quindi io ipotizzo che... Ah, ma ci sono gli aghi-waghi, guarda che bel regalo di Natale, ragazzi, non lo volete un bel aghi-waghi? Ah, aghi, scusate, vedi, quell'infame mi ha dato le chiave, ok, ogni tanto controllo la porta dell'ufficio, ok, andiamo, Allora, eravamo rimasti che si apriva una porta laggiù e aghi-waghi, no, scusate ragazzi, infilo, ah, ma se ti lo facessi così, beh, direi che è molto meglio, capite perché non posso giocare a Lice of P, vero? Cioè, in queste condizioni non riesco neanche a muovere un personaggio in un gioco horror, pensate a fare i perri su Lice of P, vabbè, comunque, make a free ride, io non me lo voglio fare, amico, dove è quell'infame? Io l'ho vista, mamma mia che ansia, ecco, ma perché non ti metti con la tua aghi-waghi femmina e diventate una, fate una bella coppietta? Non mi mettere il jumpscare, eh? Ok, dai, andiamo all'altra parte! Per l'inferno! No, va bene. Niente, non ci scampo, numero 5, vai! Se c'è una cosa scontata è che quando c'è un corridoio e un corridoio, qualcosa comparirà dritto per dritto intanto io ho l'audio altissimo, non ho le cuffie, ma si sente tutto, fidatevi prossimo... mi viene da ridere, non perché mi sia cagato quasi sotto per un soffietto del cavolo, ma perché io per anni, 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 anni sono cresciuto vedendo video su YouTube, appunto, di persone che, come dire, avevano paura e si cagavano sotto giocando a giochi horror, io ridevo, ridevo, dicevo, ah, ma come fanno a spaventarsi se sono nel mood di un gioco horror? quando però lo fai e ti metti nei panni di loro anche una crepa ti fa venire ti fa proprio nel curetto mi ci vorrebbero su sto schermo per cercare di sdramatizzare la situazione dai, però è palese che adesso mi spunta da laggiù quel foco, vero? dai, no, alle spalle, dai, voglio... dai, però, dai, dai, forza, un po' di... con il godo necessario andiamo avanti dai, forza, non fermiamoci, a te ci mettiamo una vita guarda che carino ah, te la darai una martellata come i souls buongiorno vedi che li vedo adesso, le cassette ok, arancione ci serve una cassetta arancione ok ci serve la cassetta arancione? questo che è una porta? no, ok ci serve una cassetta arancione? ok vado a prendere ok, ho preso una scatola Aghi dice ricordati di fare delle pause va bene, io però mi preoccuperebbe di starmi... ok Aghi, però stiamo carmi cos'è questa roba? devo... no ho preso una scatola ma non posso cliccare niente ok devo scendere? ma io ho la cassetta qui c'è ma non è che non la vedo io? prima di cadere sotto nel baratro non è che c'è? non la vedo io? ma con la luminosità al massimo la trovi? trova la cassetta forse è dentro qua? no 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 forse è nascosta? niente no niente niente è cassetta arancione ricordiamoci che qui c'è una cassetta arancione vabbè c'è il... insomma il mangia cassetta ci vorremmo una cassetta arancione un po' di avanti oddio mio che brutto io che brutto ok è che ho aumentato l'audio tantissimo rispetto all'altro episodio ok tiro la testa del suo popolo buongiorno una testa di poppy fare un insulto oh guarda avevo letto mannaggia maneggia con cura va bene voi però state calmi questa si apre oddio mio ah uno shortcut va bene è uno shortcut ok ma di forza la cassetta arancione è qui play time un deposito di amazon ok allora lì ci serve ancora la manina rossa però vedi pure qui ci serve la manina rossa eccola è una manina rossa quella come la prendo però mi sono giocattoli distrutti qui niente non si è la vossa oh buono un'altra scatola devo raccogliere quattro scatole ok un'altra devo abbassarmi ok ce ne serve un'altra ok direi dove la trovo l'altra oh che fortuna ok abbiamo quattro scatole però non ho trovato la la cassetta mannaggia voglio fare il completismo di queste cose magari non la vedo io pure luminosità al massimo cavolo dove potrebbe essere la cassetta lo so ragazzi non vorrei fare video troppo lunghi però vi note perché cavolo la cassetta arancione niente non la vedo non l'ho trovata andiamo ok andiamo ad attivare i cosi magari non è che ce l'ho la cassetta sono stupido io no non ce l'ho infatti quando l'avrei presa ok andiamo ok mettiamo cambio ok come i giochetti in Giappone che non ti fanno mai vincere non devi andare in Giappone quando ero piccolo andavo al mare c'erano quelle cose e dico i peluche nel mondo che ho mai vinto non ho mai vinto soltanto spregazzotti ok va bene prendiamo la vanilla rossa oh buono eh ora mi do il 5 da solo oh io ok abbiamo due manine vieni a Giappone prenda schiaffi ok allora possiamo andare avanti e adesso possiamo fare cose giusto? però c'era un'altra porta mi ricordo che figo figata allora io non entro qua aspetta 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 io devo dire ciò io entro c'è un po' di backtracking incredibile questa sembra una porta è una porta questa no non è una porta allora io volevo fare un attimo di backtracking e andare a capire dall'altra parte c'era un'altra porta mi pare no? beh io c'ho il terrore che me lo ritrovo davanti dai è talmente ovvio su dai come neutralizzare uno jumpscare far finta che accadrà subito oh dio madonna che ansia però ho pure alzato il volume ah è chiuso no io volevo andare nell'altra porta questo si apre per l'inferno e niente ci hanno chiuso là niente volevo andare a fare cose niente andiamo corriamo corri 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 ok non abbiamo trovato questa cassetta ma innaggia la miseria mi ruido tantissimo perché mi piace fare il complitismo di queste cose non la vedo proprio la cassetta arancione chissà dove sta e niente me la vabbè se è importante la recupereremo un'altra run io sto cercando di vedere se la trovo ma non la trovo la maledetta cassetta arancione niente vabbè che adesso che brutto sta cosa mamma mia forse andiamo un po' di coraggio e godo forse ecco portiamoci la scatola almeno gli diamo testa se lo vediamo vedo niente andiamo avanti weee oh 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 god afferra per completare il circuito ah un altro di quei cosi a sto giro però ci vedo eeeh 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 dove devo andare ah devo andare giustamente se non puoi salire li puoi andare di qua ok c'è ok una tesla sta qui ok andiamo ok devo toccare quella oh ma questo non fa ma non si può ancora vedere ah no devo andare sopra ok questo alla fine me lo ritrolo davanti sto in fame ok vedi che con la luce ci vediamo grazie ah no è il limite forse ho capito devo fare così 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 che paura ho dato un calcio ho dato un calcio ho dato una ginocchiata al tavolo ragazzi abbiniamo tu guarda se non me lo trovo davanti è stata un'esperienza è stata un'esperienza terrificante ho dato una ginocchiana al tavolo non credo si sia mai sentito che la telecamera si è mossa vi dico solo questo perché mi si è attivato il tapirulan il tapirulan il cavolo di coso sotto i piedi tapirulan vabbè forza le fa palestra ok buongiorno siamo finiti a teletabis adotta la felicità adotta un orfano oggi l'iniziativa della pre-tancon si sforza di creare una permanenza nella vita di bambini orfani e affidatare all'interno della nostra organizzazione incoraggiamo tutti i dipendenti della pre-tancon a prendere parte alla missione dal IN affidiamo ad un bambino orfano i dipendenti che aiutano i dipendenti che partengono possono avere un'interiori beneficio ok questa iniziativa aiuta i bambini non solo per la religione del Midwest ma anche gli orfani ogni bambino merita la sua vita ok non lo so make a friend quelle cose sembrano scia delle tante buonasera saremo le scale oh e mi manca l'arancione ma pure la rosa e che palle sto scordando tutte ci poteva arrivare fino a qui qualcosa la mia mente godo verso ci arriva ok un altro di sti cosi ok che fa perché sto stavendo le scale vado sotto però proprio andiamo proprio intuito così sprezzanti del pericolo top guarda che bravo questo top un elettricista quasi no niente ok qui c'è da fare collegamenti incredibili posso farlo da qui scusami no ok riproviamo ahah peccato you you tried ok e mo niente non arrivo da quella parte oh yeah oh yeah baby e mo ok forse ce la facciamo ragazzi ok forse ce la facciamo ok perché sto facendo le cose dove non vado sotto però allora ce la facciamo ce la possiamo fare ah uno due questa aspetta un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La destra. Ti prego, prendi questa... Fratello, devi prendere questa... Oddio, ti prego, ti prego. Ti prego, l'illuminazione. Uno. Due. Ti prego. Oddio, godo. Ti prego. Saranno 20 minuti che sto qui per il godo. E mo? E mo? Cioè, ragazzi, in due episodi, secondo me, non abbiamo fatto neanche metà di questo capitolo. Perché l'altra volta tra il trenino e le Tesla al buio, va bene, questa proprio, ragazzi, non riuscivo a mettere questa maglietta. Vabbè, vabbè, lascia aperta. Sento sullo schermo che stanno ridendo di là, guarda. Vabbè, lascia aperta. Ok. E non ho neanche trovato le cassette. Noi ci salutiamo, ragazzi, perché... Ho risolto qualcosa? Non è successo niente? Serio? Nessuno se ne va senza un giocattolo. Va bene. Fatti un amico, come noi ci sono stati, il nostro fondatore, Elliot Ludwig, che era un visionario, ha gettato le basse per le più grandi imprese da Playtime Quote. Tutte le cose sono tante che ha creato la macchina. Fatti un amico? Un amico? Ah, vabbè, non ti puoi progettare, amico? È una delle più suoi creative impressioni avanzate. Noi siamo responsabili, come tutti i giocattoli di Playtime Quote, venduti sul mercato fino ad oggi. Tutto ciò è di cui ha bisogno di essere alimentato da pezzi appropriati. Corrente attivata. Oh! Madonna, quanto siete brutti! E mo? Ho attivato questi sgorbi, e poi che devo fare? Devo fare così. Devo costruire un giocattolo. Ah, un costruito giocattolo. Beh, certo. Gambe, testa, corpo. Ma che carino! Che cos'è un gatto ave? Una tigre ave? Cioè, per fare sta cosa ci ho messo due minuti! E per quell'altra venti minuti! E mo? E mo? Nessuno se... Ah, devo mettere il giocattolo. Wow! Yo! Fantastico! Bene, bene. Ci fermiamo qui, sono 45 minuti di registrazione. Mannaggia la miseria. Ragazzi, che cosa sia con voi, ci vediamo nel terzo episodio, e non so cosa succederà. Però, sono due episodi che Agiwagi ci sfia, quindi io penso che nel terzo episodio, e ce lo prendiamo davanti. E ho paura. Quindi, niente. Che cosa sia con voi, e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! 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 Grazie a tutti